Benvenuti nel video dedicato alle assimetrie, che si possono creare sul fondo di maglie, vestiti o di alcune gonne. E queste assimetrie le vado a creare con il configuratore presente in TTCAD L3. Prendo come esempio un corpetto base di tipo C, seleziono Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Clicco, mi si apre questa finestrella che mi chiede, vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore e la pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Voi dovete inserire le vostre misure, io l'unica misura che vado a cambiare è questa, lunghezza totale capo. Metto 80 centimetri, così un po' più lungo si vedono meglio quello che voglio creare e farvi vedere. Faccio applica, si è allungato e ha portato la misura a 80 centimetri. L'icona che rappresenta le assimetrie è questa, modifiche assimetriche. Clicco, mi porta all'interno della pagina delle assimetrie, qui ho il modello del davanti e il modello del dietro. Qui nella parte centrale ho le varie possibilità, andiamo a vederne una alla volta. Innanzitutto per avere le assimetrie sul fondo devo applicarle, applicare e selezionare questa opzione. Applico modifiche assimetriche, clicco, il davanti e il dietro me lo fa vedere intero. Mi ha già applicato una simetria, però andiamo a vederne una alla volta. La prima che trovo, questa in verde, che c'è scritto originale, cliccandola, il davanti e il dietro, il fondo è dritto, non ha nessuna simetria. E non posso neanche andare a modificare con la parte sotto. Questo è utile se io volessi ad esempio andare a crearmi un monospalla entrando nella L3, io posso crearmi questo modello. Quindi è molto utile anche questo originale, perché mi apre, mi dà la possibilità di avere il davanti e il dietro intero, aperto. Tipo 1, clicco, ecco qui, mi fa vedere un fianco di fronte a me sinistro più lungo rispetto all'altro. Il fianco che rimane più corto è la misura che io avevo inserito nella pagina misure. Quindi questo che si vede sotto con una linea grigio chiara che arriva fino alla lettera G, sono gli 80 cm che io avevo inserito nella pagina misure. Sotto ho specchia la modifica selezionata. Vuol dire se io volessi questa parte, che in questo momento frontalmente a me è la sinistra, la volessi portare a destra, basta cliccare e me l'ha invertita. Lasciamola spostata a sinistra. Poi applica correzione automatica e lunghezze lati davanti e dietro è abilitata di default e conviene lasciarla sempre abilitata. Vuol dire che fai in automatico le correzioni in modo che quando poi andate a cucire il modello i centimetri risultino uguali. Sotto misura modifica, misure modifica. C'è la possibilità di svasare i due lati in modo differente. Andiamo a svasare il primo ad esempio di 3 cm. Faccio applica. Ecco qua che mi ha svasato il lato più lungo di 3 cm. Vi ricordo che i 3 cm vengono applicati sull'ultimo punto del modello presente che era questo. Qui sono i 3 cm e poi unisce col punto che trova prima, in questo caso del fianco, e lo porta fin sul fondo. Da questa parte mettiamone solo un centimetro. Faccio applica. Ecco qui che si vede il centimetro portato verso destra. Quindi ho la possibilità di svasare a destra e a sinistra in modo differente. Allungamento verticale. Questa parte sinistra che è più lunga è più lunga di 20 cm rispetto alla misura originale. La misura originale vi ricordo che erano 80 cm. Perciò questa parte, avendo l'allungata di 20, diventerà un metro. Naturalmente si può modificare. Mettiamo 10 cm. Faccio applica. Ecco qui che si è accorciata dei 10 cm. C'è anche la possibilità di andare ad accorciare la parte che è rimasta come in origine, quindi di 80 cm. Se io ad esempio la volessi accorciare di 3, metto dentro 3 cm, faccio applica. Ecco qui che me l'ha accorciata. Poi c'è la possibilità di andare a personalizzare la forma, quindi la curva. Già di partenza il programma mi crea una curva armoniosa, però io la posso andare a modificare a mio piacimento. Personalizza forma davanti, clicco, entro. Semplicemente con questi pulsanti io posso andare a cambiare, a modificare gli angoli che mi vengono rappresentati con questi gradi e li trovo anche vicino ai pulsanti. Ho il punto P1 e il punto P2. Il punto P1 è questo in alto, ho l'angolo e il peso. Se io ad esempio volessi cambiare l'angolo, aumentare quest'angolo, non faccio altro che cliccare sul più. Vado ad aumentarlo. Se lo volessi più arrotondato, vado ad aumentare il peso. Ve lo faccio vedere, mi faccio questo esempio. Solo così visivamente si vede molto bene la differenza dall'origine. Faccio OK, esco ed ecco qua che si vede la trasformazione. C'è anche un'altra possibilità. Rientro sul personalizza forma davanti. In fondo c'è scritto copia forma. Se io il davanti e il dietro volessi dargli la stessa identica forma, faccio copia, OK. Entro in personalizza forma dietro, che è questa, quella originale. Faccio incolla, clicco su incolla forma. Mi ha trasformato la curva originale nella curva uguale identica a quella del davanti. Ecco qui. Se volessi ritornare a quella originale, clicco su ripristina forma davanti. Me la riporta. E anche ripristina forma dietro. Queste sono tutte le possibilità che io ho per ognuno di queste forme. Il tipo 2, lo selezioniamo. Di partenza è una retta, ma entrando in personalizza forma, io ho sempre la possibilità, con gli angoli, di andare a modificarla. A mio piacimento. Facciamo proprio un... L'angolo, aumentiamolo anche di qua. OK. Quindi da una retta posso trasformarla in una curva. Il tipo 3 ha questa forma qui, che sono poi come quelle delle iconcine che vedo. Parte un po' arrotondata e poi si unisce al fianco. Se ad esempio volessi fare da una parte uno spacco, è già predisposto con una forma. Però anche qua posso entrare e modificare. E anche tutte le lunghezze e le svasature si possono cambiare a proprio piacimento. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!